Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Nessuno l'ha visti prende montagnetta comunque assurdo Ma l'abbiamo detto noi Ma che cazzo ragazzi Ma Ma Che cazzo era questo C'è dai Allora devi fare così Tu devi parlare con lei Lei deve parlare con tu Sì sì dovete parlare Pitto noi siamo qua in zona Se ti vedo scappare un'altra volta che non le parli Ti vengo a prendere ok? Sì Ok ciao ci vediamo Ciao 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 Sì 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 è sotto 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 Ma andiamo 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 Cosa ma fa gente Gente Lato mare All'incrocio All'incrocio C'è una moto C'è una moto che ci spara Agente che dobbiamo fare Agente che dobbiamo fare Io non c'entro niente eh Io non c'entro niente Non c'entro niente Non c'entro niente Non c'entro niente Perché mi spara Ragazzi siamo pronti Siamo pronti Siamo pronti Rispondete 3 2 1 Vai Sarò con te Continuati Non devi volare Che cazzo A posto Possiamo andare Siamo andati siamo pronti Guido io Andiamo Ma gli ostaggi ce l'abbiamo? Ecco lì Ah pure i ostaggi organizzati Vai salì No Tanto i polizzati sono sulla macchina Allora colleghi Veniamo Capriolo non Capriola Non Capriolo E ho vinto Puppa Mila Fava Ma è col cazzo no Ma No No collega Mi sembra un po' tua macchia come scelta Sto bene Sto bene Sto bene Va bene Allora Guardando la GoPro I soggetti Aureliano Ha preso il pesciao Da forte braccio Veni via Yo Yo Nada Nada Con i pesciao E forte braccio ha dato il pesciao 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 Galleria Allo Vabbè 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 La Nooo Le l'ha regalata Dark Grazie Lorenzo Sei un signore frate Sei sempre il solito Tetesco Legale e non Il guadagno va ripartito come segue Il 95% da dividere tra chi ha svolto l'attività Compreso chi la ronda Il restante 5% Don Mario Lei è da arrestare lo sa? C'è Don Mario? C'è qualcuno in centrale? Bastardo dove sei? C'è Don Mario in sala interrogatoria sotto Don Mario ti arrestano Sta andando verso il garage Se uscite voi che io sto interrogando Peppino Da dietro Tango 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 Put 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 Ci sei B? No ci sono Ci sono A B ok Hai il band eh T? Sì voglio Hanno sbagliato i miei sincero Dove sta la tarman? Davanti al minuto Oh che cazzo è? Raga Ma Meritiamo di perdere la pagina Meritiamo di perdere la pagina Ho fatto un altro Ho fatto un altro Bravo Ho fatto uno Ho fatto uno Ho fatto uno Ho fatto uno C'è uno alla destra Andiamo a capo Chi cazzo mi ha sparato a me? Eh? Ora è in funzione Vai cagare byron C'è Posso guidare io? Posso guidare io? Ma come ha perso tutto il giubbonto? C'è il godo, coglione! Ma che cazzo fa, coglione? Ma che cazzo fare, ragazzi? Ma che cazzo fare, ragazzi? Ma che cazzo fare? Aiuto! Per piacere! Oggi non è giornata quella lì, devo starsene a casa Mi c'è il giro fiosco Posso fare una foto? Che idea geniale Ma che cazzo? Uno dei nostri è stato sollevato dai medici E ci ha detto che i tuoi e quelli di forte braccia ci hanno sparato contro Senti... Aureliano non deve più sentire L'Aureliano che conoscevi tu È morto, Armani Signor Pablo De Columbia Glielo dico io oggi C'è una cosa Lata O plomo La parte Questa è la quarta La parte Lata